Siamo noi. Eccoci qua. Sono qua per mostrare la mia presenza come portavoce del Movimento 5 Stelle in questo territorio in cui vengo spesso. Un territorio veramente martoriato e sacrificato in maniera esagerata dal punto di vista ambientale. Noi dal Movimento 5 Stelle, come sapete, abbiamo un'idea della gestione dei rifiuti che è lontana dalla continua costruzione di scariche come dal movimento dei territori. Questo tipo di politica la vogliamo applicare anche a livello regionale. Ora c'è una procedura che è in corso. Noi dobbiamo fare un esame, un vaglio approfondito di quella che è l'iter per cercare di capire se ci sono i presupposti appunto per fermare questo iter perché non vogliamo assolutamente che ci sia un ulteriore scempio in questo territorio. Quindi come Movimento 5 Stelle ci impegneremo senza andare là in particolare. Dobbiamo studiare bene la situazione ma assolutamente dobbiamo evitare che ci sia un ulteriore discarica qui in questo territorio che è bellissimo. Allora, parliamo. Prego.